da ciao per i pochi che parleranno cinese questo significa buongiorno a tutti vi saluto in cinese perché perché l'obiettivo di questo tech talk è chiaramente di spiegare quali sono le skills quali sono i bisogni che vi permetteranno di creare una vita personalmente di successo ma soprattutto professionalmente e venendo da tre generazioni di commercialisti ho provato ad immaginare sarebbe possibile pensare alla nostra vita come un bilancio come uno stato patrimoniale e quando la guardiamo semplicemente la maggior parte delle persone si focalizza sulle cose materiali comprarsi macchine orologi quadre case e chiaramente comprano tutti questi asset tutti questi attivi con la banca con i mutui o con i propri risparmi ma nessuno si focalizza su quella che è la cosa principale in un'azienda ma in realtà anche nella vita personale nel proprio sviluppo che è quello che io chiamo l'attivo intangibile l'attivo intangibile è quello che permette a nike di vendere miliardi di dollari di scarpe all'anno e se pensate dal punto di vista di una persona pochissime persone investono nello sviluppo personale tutti investono in asset e l'attivo intangibile è quello che vi renderà in realtà persone di successo sul lungo termine ho sviluppato prima di dire qui un metodo che l'ho chiamato le cinque s per emergere per essere diversi e lo voglio condividere oggi con voi la prima regola sembra banalissima è quella di studiare ma non di studiare è quella di studiare cose differenti e cose difficili dieci anni fa quando ero ancora uno studente universitario studiavo finanza un professore a una conferenza mi parlò di blockchain e mi disse che tra i prossimi dieci venti anni se avessi continuato gli studi per per diventare banchiera non avrei avuto alcun lavoro e fortunatamente ho creduto a quello che mi disse e da lì iniziare a studiare la blockchain il principale più importante risultato che chiaramente ho avuto che oggi insegna in svariata università una materia che rappresenta il futuro delle nostre generazioni quanta gente vi dice io non capisco niente a quello che tu fai non capisco quello fai è lì che voi state centrando l'obiettivo stiate studiando cose difficili per fare qualche esempio io ho parlato in cinese io adoro lingue parlo sei lingue non questo non significa che bisogna studiare il cinese ma studiate cose differenti oggi siamo formattati nelle nostre università università tutti studiano le stesse cose nessuno pensa dove andrà il futuro dovete prevedere dove sarà la nostra società tra i prossimi vent'anni è lì che sarete nel mezzo della vostra carriera e chiaramente delle skills come l'intelligenza artificiale la blockchain internet of things sono delle tematiche che possono sembrare difficili ma rappresentano il futuro della vostra società una skills importantissima che nessuno chiaramente insegna all'università è skills di persuasione di networking di sales dovete capire imparare come vendere come fare networking come persuadere e vi dico tutto questo perché se guardiamo nel 2050 l'economia che chiamiamo il g7 quindi i sette paesi principali al mondo in realtà conteranno pochissimo le economie più emergenti saranno la cina l'india addirittura l'indonesia chi di voi in questa in questa stanza conosce la cultura dell'indonesia dovete assolutamente studiare non solo la lingua ma anche quali sono le abitudini di business di queste persone come fanno business tutti siamo diversi e quando pensate quali saranno i tre lavori più richiesti tra vent'anni parliamo di digital currencies advisor quindi consulente di criptovalute digitali di data detective di specialisti dei AI e io non credo che siamo pronti oggi con le nostre formazioni a tutto questo per quello se volete veramente creare valori intangibili essere differenti dovete studiare cose difficili la seconda cosa e questa è sempre la domanda che tante persone mi fanno ma tu sei così giovane c'hai appena 30 anni come fate tutte queste cose il segreto è semplicissimo sacrificarsi ma sacrificarsi presto quando guardate come diciamo si può sviluppare la vita se prendete oggi decisioni difficili decisioni difficili vi creeranno una vita facile nel futuro facili decisioni oggi a 20 25 anni vi creeranno una vita difficile dopo quindi a tutti i ragazzi qui vi invito a immediatamente fare decisioni difficili non c'è niente di meglio di sacrificarsi il valore del sacrificio è quello che vi poi porterà al successo e quando ci sarà il successo è lì che veramente valorizzerete lo sforzo che avete fatto quindi la seconda S del valore è per creare valore differente chiaramente sacrificarsi presto la terza cosa che è assolutamente importante oggi abbiamo la fortuna noi ragazzi che siamo digital native siamo nativi digitali siamo nati con la tecnologia dovete servire l'esperto dovete trovare un mento delle persone della generazione successiva precedente alla vostra e dovete chiedervi quali skills quale abilità ho io che posso insegnare a un'altra persona è il discorso del mentorship che è molto chiaro oggi viviamo una società basata sull'egoismo tutti pensano semplicemente ai propri interessi ma avendo un approccio trovando un mentore una persona più adulta che ha vissuto esperienze e facendo uno scambio culturale uno scambio di skills e di conoscenze è lì che veramente potreste beneficiare in futuro del suo aiuto importantissimo è socializzare non so se sapete 75 per cento del lavoro non si trova inviando un cv si trova socializzando andando a conferenze facendo network conoscendo persone il valore più importante della vostra vita è il vostro network in qualsiasi giorno avete un'opportunità di business in asia un quant'altro siete andati in una conferenza e bisogna importantissimo mantenere un network e svilupparlo e chiaramente questi sono eventi importantissimi perché ecco magari si parla di eventi come il TED ma ecco uno magari può io sono appassionato di arte può andare a conferenze d'arte può sviluppare vari interessi la quinta S di questo percorso e chiaramente sono le vostre scelte io dico sempre che un businessman non è differente da un atleta quando pensate lebron james è molto simile a un businessman perché chiaramente ha una disciplina un rigore di allenamento fisico che chiaramente gli permette di essere performante in quello che fa quindi voi ragazzi che aspirate a essere businessman ragazzi e ragazze di successo dovete pensare alla vostra vita come fosse la vita di un atleta come avere una disciplina e un rigore sulla vostra alimentazione sullo sport sulle sulle buone quelle chiamano le buone abitudini la seconda cosa dovete sviluppare un argomento di creatività la creatività è importantissima imparate uno strumento imparate il piano imparate la chitarra suonate musica dipingete quello che volete ma dovete diventare tra virgolette un pianista un musicista questo vi permetterà a sviluppare la creatività che chiaramente con l'uso dell'intelligenza artificiale oggi la stiamo perdendo e l'ultima l'ultima chiaramente scelta è considerate steve job meditava due tre ore al giorno avete bisogno assolutamente di rinforzare il cervello ossigenare il vostro corpo meditate riposate tutte attività che vi permettono di rigenerarvi sono importantissime se volete avere un equilibrio di vita e di lavoro e vorrei concludere con quelle che io chiamo gli occhiali pc perché gli occhiali pc gli occhiali pc hanno due lenti una lente che io chiamo la positività è una lente che io chiamo la curiosità queste due cose messe insieme sono quelle che rappresentano il futuro del successo se mettete gli occhiali pc e vedete il mondo in maniera positiva e vedete il mondo con una curiosità e con una voglia di apprendere sarete imbattibili quindi io vi ringrazio tutti vi saluto in cinese grazie mille 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 grazie mille